Ciao a tutti, come comportarsi in seguito al ghosting subito? Cioè in seguito al fatto che una persona è sparita, insomma, senza date spiegazioni. Vatti a vedere tutti gli altri video che ho fatto sul ghosting, ho fatto tutta una serie di video che puoi andarti a vedere. Allora, prima di passare all'argomento però ti chiedo di iscriverti al canale e di seguirmi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco nonché iscriverti al mio nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Allora, la prima cosa da fare assolutamente è evitare di colpevolizzarsi, perché non è colpa tua per quello che fa un altro. Cioè noi non dobbiamo sentirci mai difettosi, noi dobbiamo essere la soluzione al problema, non dobbiamo vederci come il problema. Se ci vediamo come un problema e non come una soluzione, come dire, non riusciremo a risolvere nulla. Qui entreremo in uno stato di assoluta negatività. Quindi la cosa principale, diciamo, che dobbiamo imparare a fare è quella di evitare di colpevolizzarsi. Poi dobbiamo anche evitare di inseguire, perché inseguire non porta da nessuna parte. Cioè, chi insegue? Uno che ti è mancato, o una che ti è mancato di rispetto, o comunque non ti ha dato spiegazione in sparita, ma che se ne va di per la sua strada. Non devi assolutamente inseguire. Ma d'altra parte è negativo soprattutto per te stessa o per te stesso, perché vai a, come dire, in questo caso ad auto-sabotare la tua dignità. Quindi la tua dignità deve venire a sé per primo posto, deve essere il fare illuminante, deve essere la stella polare della tua vita, salvaguardare la dignità. È la stella polare della propria vita, quindi evita di inseguire. Assolutamente va evitato di inseguire. Poi, oltre a non inseguire, devi anche guardare oltre. Non lasciare passare tanto tempo. Frequenta altre persone, fai altre cose, esci con altre persone, conosci, divertiti. Questo è, viviti la tua vita senza stare più a pensare, a dedicare pensieri. È passato del tempo, sia che, diciamo, sia stata una relazione breve, che sia stata una relazione lunga. Fa parte degli inconvenienti della vita, fa parte della vita, l'imprevedibilità. Per cui è molto meglio guardare oltre e andare avanti. E poi, come dire, renderti conto che hai avuto a che fare con una persona con scarsa affettività. E quindi, tutto sommato, diciamo così, è meglio che si sia rivelato o rivelata, prima o poi. Perché se fosse andata avanti, intanto sarebbe capitato magari in un secondo momento, quando magari ti era ancora più coinvolto o coinvolto. Oppure è comunque una persona che non avrebbe mai, ti avrebbe mai dato stabilità, sicurezza e tutto. Perché i cambiamenti sono stati così repentini, insomma. Quindi queste sono le azioni che devi fare. Ma soprattutto la cosa fondamentale è salvaguardare la tua dignità, evitando di inseguire. E guardando oltre e facendo altre cose, trovando altre persone, come dire, essendo comunque felici. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramaschi, iscriviti al canale. Iscriviti anche al mio nuovo canale Felicità e Benessere. E seguimi sulla pagina Instagram appunto. Ciao a tutti. Ciao a tutti.